Ci sono giorni in cui ti accorgi di avere le caldacine. Come cosa sono le caldacine? Il caldo. Il sudore inizia a cuare dalla fronte. Tutta la roba ti sembra appiccicata addosso. Magliette, camis, calzite, pandalogine. Eci, esci, ciamain! E da dove asciugalo? Cistucalo, cistucalo, cistucalo! Lei ci appreso così, ha la seguitura, ma... Ah! Ha, 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 ha... Alice o Nicola? Ha, 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 ha... Boh, e chi è, e chi è l'està? E chi è l'està? Boh, ci amè, è da dove su stu gala, al sempre vrac, belle! E mostriamo, orgogliosi, le nostre belle ascelle pezzate, tutte bagnate, tutte sedate! Oh, ma chi è l'està? Altrimenti sta sempre, di calzone, madre! No, cosciame, pollame! Boh, e chi è l'està? E chi è l'està? E chi è l'està? Oh, c'è me, e chi è, e la dove su stu gala? Eh, ma go, sta vai! Cua, cua, cua il sudore, fatelo cuare! E chi è l'està? E chi è l'està? E chi è l'està? E chi è l'està? E chi è... E chi è l'està? U So, che è l'està? Da, 6, 6, 7. Allora, vieni a fare bene called fiduuche. ... Lynch, ma do DV. E si è l'està? E chi è? Grazie a tutti